...e concordano il vaccino entro l'anno mentre si sperimentano farmaci che possono contrastare il virus. Felicità Pistilli. La ricerca di una cura doc, 20 nuovi farmaci e 35 vaccini al vaglio dell'Agenzia Europea dei Medicinali. I numeri di una sfida globale che pur nell'urgenza ha bisogno comunque di rigore e verifiche. Ma in un momento di emergenza come questo basta il nome di un farmaco che circola sul web ad alimentare la speranza. L'ultimo, l'Avigan, arriva dal Giappone dove è utilizzato dal 2014 per virus influenzali nuovi. Ma attenzione, non ci sono ancora evidenze scientifiche. AIFA ha deciso attraverso la propria commissione tecnica o scientifica proprio oggi che questo farmaco necessita di sperimentazioni adeguate che saranno disegnate e verosimilmente approvate nei prossimi giorni con grande rapidità per verificare l'impatto di questo farmaco nelle fasi iniziali di malattia. Sono già stati reclutati intanto oltre 300 pazienti per la sperimentazione del farmaco che in questo momento suscita maggiore interesse. Quello solitamente usato per l'artrite reumatoide potrebbe essere efficace nel contrastare l'infiammazione alla base delle gravi polmoniti da Covid-19. Ritengo che entro 3, massimo 4 settimane, saremo in grado di avere i dati di una prima valutazione o di una valutazione importante. C'è poi un altro studio su un antivirale utilizzato per Ebola. AIFA ha stabilito che la propria commissione tecnico-scientifica validi e verifichi tutti gli studi proposti, ne dia una priorità sulla base dei migliori dati disponibili e ne segua la pianificazione e l'andamento. Ed ora andiamo in Spagna che ha vissuto la sua... Grazie. 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 Grazie.